take it easy, take it slow, we can do it just like before, so take it easy, take it easy ragazzi bentornati in questo unissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo qui per il secondo video di oggi infatti questa mattina vi invito anche a vederlo, è uscito un video dove parliamo della collaborazione tra Fall Guys e Fortnite con ben 5 ricompense gratis e adesso sono pure, sembrerebbe essere state insomma trapelate le ricompense che potremmo ottenere ragazzi si parla di un bundle skin, quindi skin, backpack, piccone, emoticon e spray totalmente tutto il bundle gratis come ve l'ho già detto stamattina quindi vi invito a guardare il video che è uscito stamattina, vi spiego come si ottiene eccetera comunque dovrebbero essere 100 partite giocate su ovviamente Fall Guys che dovete assolutamente averlo per ottenere tutti i cosmetici 100 partite o 100 round ancora non si è capito bene, le sfide ragazzi saranno comunque disponibili oggi alle ore 15 ci sarà l'annuncio, saranno sicuramente disponibili già probabilmente alle 14 comunque in questo pomeriggio e ragazzi non è ancora uscito il comunicato ufficiale al momento che sto registrando però è stato trapelato da pochi minuti, non ha il tag Danny Cozzeggetti, ha il tag promo quindi 100% sono le ricompense di collaborazione tra Fortnite e Fall Guys comunque adesso non lo sappiamo ancora tra il qual è tu ufficialmente perché non c'è il comunicato però anche se non dovessero uscire tramite questa collaborazione comunque uscirà lo stesso gratis ma 100% si tratta comunque ripeto di questa collab tra Fortnite, Fall Guys e Rocket League e altre cose quindi si possono ottenere un sacco di ricompense e ne parliamo anche nel video uscito di stamattina quindi se volete darlo mi raccomando andatelo a vedere vi lascio anche magari il gameplay della skin come si presenta nell'armadietto eccetera è una skin comunque più o meno già ripresa da un vecchio pass battaglia del capitolo 2 e niente vabbè comunque sempre gratis e comunque ci sta non la useremo mai molto probabilmente questa skin però gratis è quindi ci sta detto questo noi comunque ci vediamo domani sarà ottenibile ovviamente credo oggi alle 15 anche prima completando quindi ripeto le sfide su Fall Guys e niente noi ci vediamo domani mi raccomando like, condividi il video con i tuoi amici per farli sapere le news iscriviti e noi ci vediamo domani bene iscriviti e revisione a cura di QTSS iscriviti e revisione a cura di QTSS